Nel prossimo Consiglio Comunale di Agropoli siederà tra i banchi della Sise Gisella Botticchio, imprenditrice agropolese che ha ricevuto 197 preferenze alle scorse elezioni amministrative nella lista Coppola. Botticchio, che è stata subito critica nei confronti dell'amministrazione dopo il risultato delle scorse elezioni, perché secondo lei il suo ingresso in Consiglio fu ostacolato, dovrà scegliere da che parte stare, vista la sua elezione nel gruppo del sindaco, è considerato che le sue recenti dichiarazioni sono state assolutamente contrastanti con quelle del primo cittadino. È stata una doccia, come si suol dire, un fulmine a ciel sereno, però l'ho accolta bene, benissimo, perché la politica è stata la mia passione da sempre, ho già ricoperto in passato ruoli come consigliere comunale, come consigliere in comunità mondana, mi sono confrontata con tante persone della politica di spessore e credo di avere un buon bagaglio e una buona esperienza. Cercherò di dare un contributo alla mia città, Agropoli, dove io aspiro, dove la gente, l'incontro ci parlo, chiedono magari, hanno dei problemi, cercare, io penso che un consigliere comunale deve, la prima cosa, ascoltare la gente, consigliare la gente, ecco proprio il termine consigliere, e dare una risposta a loro. Se la politica è passione, si può dare una buona risposta alla gente, fine a se stessa, passione, passione per la gente. Ho il mio lavoro, indubbiamente parte della mia giornata dovrò dedicarla al mio lavoro, però il tempo libero io voglio dedicarlo alla mia città. Ho dei temi in sospeso, dove io ho sofferto molto, ho una sofferenza dal 2013, da quando è stato chiuso l'ospedale, e ogni giorno vedo la mia gente che, diciamo, è in sofferenza per questa delusione, cercherò di dare un buon apporto al Consiglio Comunale, al Sindaco, però al primo posto, ricordatevi, viene la gente, combatterò per loro e sarò sempre al loro fianco. Gisella, tu entri nel gruppo Lista Coppola, ultimamente però sei stata pure un po' critica nei confronti del Sindaco, ora suppongo che qualcuno si aspetti una tua decisione a destra, a sinistra o magari al centro, quale sarà la tua posizione? La posizione mia è già netta, è netta da sempre, perché in Consiglio Comunale non c'è una posizione, la mia posizione è votare gli argomenti, quelli che sono costruttivi per un popolo, cioè io, il Sindaco mi vedrà nel rapporto di costruzione a beneficio solo della collettività, quindi penso che sarò uno spirito libero, come lo sono sempre stato, a disposizione di un popolo, a disposizione della politica seria. Altro non so dare risposta, oggi mi domandavano, ma sai destra? Sì, non c'è destra e sinistra. Oggi secondo me gli ideali restano quasi nulli, oggi esiste una persona che è di sani principi e che cerca veramente di fare qualcosa per la collettività, è quello che io farò.